Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete i soldi e la fama sono sicuramente qualcosa a cui tutti avviscono. Diciamo che per di per sé tutti sperano di avere molti soldi e molti di questi sperano anche di avere anche della fama. La fama porta soldi di per sé e i soldi a loro volta portano fama. In qualche modo è quello che tutti sperano, chiaramente pochi ci riescono. Si sa che comunque nella popolazione mondiale la percentuale dei ricchi e dei famigli è molto marginale rispetto a quella di nessuno come me e voi. Però chiaramente molti ambiscono a questo. Tra le varie cose, tra gli effetti collaterali, tra i rischi di questa fama e di questi soldi ci sono quelle che sono anche delle accuse spesso anche inventate o comunque dei fatti che possono diventare anche lesivi dell'immagine stessa come quello che è successo appunto a Neymar. Neymar che è l'oggetto di questo video che come sapete è stato accusato di stupro da una ragazza brasiliana con la quale Neymar avrebbe avuto un rapporto sessuale circa due settimane fa. Tra l'altro confermato dallo stesso Neymar, cioè questi due hanno avuto un rapporto hanno comunque avuto un rapporto che ricorda un po' quello che è successo qualche mese fa a Cristiano Ronaldo. Nel caso di Ronaldo il discorso però è un discorso che si era aperto da un precedente nato dieci anni fa circa. Nel caso di Neymar è tutto quanto molto fresco. Perché ho fatto questa breve parere di introduttiva parlando di fame e soldi? Perché effettivamente questo tipo di esempio così come è stato quello di Ronaldo che per ora non ne si è ancora concluso ma diciamo che si è un po' dissolto in uno di fatto. Diciamo che va un po' viene, torna e non torna. Nel senso che comunque qualcosa se ne parla, qualcosa no, qualcosa rispuntano delle notizie, qualche volta ci sono periodi di mesi in cui non si parla di questa cosa qua. Questo perché chiaramente stanno lavorando sotto traccia, gli avvocati sicuramente per chiudere il discorso. e perché effettivamente dal punto di vista mediatico è un episodio che fa notizia nel momento in cui emerge ma semplicemente non essendoci nulla da dire praticamente si risolve un po' del nulla. Nel caso di Neymar è molto simile perché parliamo sempre di una ragazza, una ragazza sconosciuta che ha un rapporto sessuale in questo caso con un calciatore molto ricco, molto famoso. Tra l'altro Neymar e Ronaldo sono forse tra i primi cinque più influenti al mondo e che poi alla fine accusa di stupero questo personaggio. Questa cosa qua, come disse nel video su Ronaldo, ricorda molto anche il caso di Kobe Bryant. Per Kobe Bryant però c'è fu veramente un processo con poi la soluzione di tutto quanto e fu un discorso ben più ampio e ben più grosso, nel senso che comunque andò avanti molti anni ed era un'immagine che andò a ledere, appunto l'immagine stessa di Kobe Bryant, fu molto molto massiccia, diversamente da quanto magari fatto per Ronaldo e in questo caso per Neymar. Per Ronaldo effettivamente ci fu un problema quando venne fuori la discussione di FIFA che si era tolta un pochino da Esports, meglio dire, di cui è sponsor appunto Ronaldo, si era un po' tolta, si era fatta un po' da parte in quel momento per poi ritornare nel momento in cui si era dissolto il tuo discorso. Per quanto riguarda Neymar, Neymar tra l'altro ha agito secondo me in modo intelligente anticipando un po' quelle che è il trantramo mediatico, perché effettivamente con quello che ha fatto Neymar cioè pubblicare su Instagram una storia, non una storia, ma appunto un video caricato su Instagram in cui spiega la cosa, ha anticipato tutto il discorso, parlando subito in prima persona e mettonoci la faccia, che di per sé può essere una mossa poco astuta, perché come si è appunto studiato per Ronaldo solitamente sono gli avvocati che lavorano sotto traccia a favore dell'assistito. In questo caso Neymar non si è sicuramente circondato di avvocati, ma ha voluto mettere la faccia forse sul consiglio degli avvocati stessi, chiaramente sono strategie diverse dal punto di vista diversivo, in cui tra l'altro ha pubblicato l'elenco delle chat su Instagram, scusate, in cui praticamente va a scagionarsi. Queste chat, come vedete, tra l'altro tutto il video è introdotto con un discorso in cui dice che non potrebbe mai farlo, che non l'ha fatto e quant'altro, ma al di là di questo, che sono chiaramente parole di circostanza che sono utili a te a supportare la dimostrazione, quello che si vede dopo per quanto riguarda le chat è praticamente va a scagionarli in qualche modo, perché sono chat intime, in cui si vengono anche delle foto intime di questa ragazza, che ha mandato foto anche in topes e quant'altro, che tra l'altro sono foto e discorsi che ci sono dopo il rapporto sessuale che abbiamo avuto i due, e quindi praticamente in qualche modo si va a ripetere, va a dire Neymar appunto che questa conversazione è andata avanti anche dopo il rapporto sessuale avuto, è andata avanti, però Neymar voleva sbolognarli in qualche modo, e evidentemente, secondo la sua tesi, la stessa ragazza, sentitasi in qualche modo allontanata, perché Neymar voleva divertirsi e morta là, sentendosi allontanata, ha deciso di distorcere il denaro in questo modo, quindi attraverso un'accusa di stupro, perché poi solitamente l'obiettivo di queste persone talvolta è distorzare il denaro, in modo, io mi tiro indietro, tiro indietro l'accusa e tu mi paghi, poi è un po' quello che successe anche in realtà con Ronaldo stesso, che al tempo, 10 anni fa, in qualche modo, ci fu un accordo tra le parti, perché non si venisse a sapere che Ronaldo aveva avuto una storia, tra l'altro così, in modo molto, diciamo anche, non una storia molto seria, ma comunque un rapporto sessuale così, e una nottata, con questa ragazza. Chiaramente, come in tutte le cose, non posso dire io se Neymar è veramente colpevole o meno, chiaramente quello che ha fatto con la sua tesi attraverso Instagram è sicuramente abbastanza affidabile, nel senso che comunque, alla fine, ci ha messo subito la faccia e ha anticipato le mosse di tutti quanti, quindi di per sé come mossa è abbastanza indicativa di quello che potrebbe essere la soluzione del caso. Chiaramente ci sarà, non dico un processo, ma sicuramente gli inquirenti avranno modo di definire tutto il discorso, anche perché, credo che sia di competenza, bisogna vedere anche la competenza, perché ciò che è successo è successo a Parigi, quindi appunto in Francia, dove abita, dove vi adesso, perché è del PSG, con una ragazza brasiliana. Quindi, di per sé, potrebbe anche tutto essere definito dalla stessa inquirenti francese, visto che se tutto si è risolto nel territorio francese. Chiaramente non posso dire io, quindi, chi è colpevole e chi meno, però solitamente, contando i precedenti, contando le tempistiche, la tipologia, contando anche quello che è un po' il video dimostrativo di Neymar, io posso anche dare a capire, in effetti, che questi sono di questi casi in cui effettivamente c'è di mezzo un personaggio famoso e ricco, che viene in qualche modo appunto fregato da una persona che cerca visibilità, che è un po' quello che è successo per Ronaldo e quello che è successo in modo molto più pesante per quanto riguarda Kobe Bryant, 15 anni fa più o meno. L'unico discorso, molti hanno detto, è ma pubblicando appunto le chat private tra loro due, ha commesso di persa un reato, di persa è anche vero, ma tra l'accuso di stupro e quello che potrebbe essere un problema legato alla privacy e quant'altro, credo che sia molto più facile per un giocatore del suo calibro, della sua ricchezza, in qualche modo pagare una qualcosina per un reato come quello legato al discorso della privacy, piuttosto che portare avanti un processo per stupro che è ben più grave. Chiaramente quando si parla di privacy, io credo che la privacy venga messa in una posizione inferiore rispetto a quello che è lo stupro, l'omicidio, la pedofilia e quant'altro. Credo che sia abbastanza condivisibile come cosa, pertanto si assume un piccolo rischio per anticipare tutte le mosse e cercare di chiudere quanto più possibile la cosa prima che diventi ancora più grande, perché poi come sappiamo il discorso mediatico tende a pompare e spesso quando ci sono i media di mezzo, i media prendono la parte di uno e l'altro secondo di quello che è la storyline che vogliono portare avanti. Quindi io credo che questa cosa di Neymar sia molto simile a quanto ho già visto con Ronaldo, poi potrei sbagliarmi chiaramente, però conoscendo un po', andando un po' a capire quelle che sono le dinamiche in questo mondo, il loro mondo, credo che alla fine sia più come dico io che come potrebbe essere l'ipotesi opposta. Poi potrei sbagliarmi, ripeto, però diciamo che non è il primo esempio e non sarà l'ultimo. Chiaramente poi bisogna sempre, da parte di questi giocatori influenti, andare veramente con i piedi ben ancorati a terra, andarci cauti, perché spesso ci sono tante persone che approfittano della posizione di questi giocatori per altri fini. Poi chiaramente ci sono anche persone per bene, ma non tutte, tutte lo sono i monafeli in qualche modo. Ditemi qui sotto cosa ne pensate di questo caso, se è da comunare a quello di Ronaldo, se effettivamente c'è qualcosa di più. E niente, ci vediamo, il prossimo video che saranno, come sempre, Forza Juve, e alla prossima, ciao!